e bella a tutti ragazzi eccoci il mio ultimo video oggi sono con Sam e aiuta e bella a tutti ragazzi per il saluto di voi ma il mio canale ho l'intro di Cree perchè non ho un canale però faccio così non chiedetemi il perchè se volete che Samuel se volete che Samuel ritorni nel canale almeno 10 like io sono un po' più forte di Christian e gioco da una season non più da quella che gioco io se ti interessa 2 capitolo capito 2 capitolo 5 non 2 dobbiamo parlare nei termini di Fortnite ma si restiamo in canale gruppo perchè se no poi gli altri fanno un casino uno c'ha il nome arabo scrivete qua sotto nei commenti se voi avete incontrato uno con il nome arabo andiamo al lago l'ho pingato prima io andiamo si va al lago a morire si va al lago a morire ma perchè io non trovo più lama? in questo senso ci sono solo due come solo due? uno è vero che i lama adesso sono super mega rare ho visto che aprivi con la cesta mia sono armato ho delle granate io con due mitraglietta io sono armatissimo ho delle granate un nemico no io sono pull con tutto il busto perfetto ah io faccio una mitraglietta faccio una mitraglietta grazie l'ho trovata non comune mitraglietta che è un nemico pure io l'ho trovata non comune io ho mitraglietta non comune verde io se ti interessa scammone verde e assalto verde non so come ma la mia prima armata è stata uno scuola cosa? ho trovato uno scuola adesso? si me lo dai a me c'è credo scherzo 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 scherzettoso ma secondo te è vero che quando ti parla di scuola io vado matto il mio cervello non ci sta più lui qua c'è una salto verde io c'ero l'ho mi servirebbero colpi piccoli c'erano 43 io vado a questa piscinetta c'erano il gesto ho trovato la pioccina io in arena ho fatto una kill con la pioccina assurda renditi conto che ho fatto una volta ho fatto l'ultima chino con la fiocina vieni a prendere il sito e poi dite a te e io non già sei perché la piaccina me la vorrei tenere da me c'è un unico scrivete nei commenti se quale youtuber guardate a parte lui cioè io a me devono seguire solo a me devono seguire solo a me ma siamo gli stessi ma certo sono i più famosi d'italia si i più famosi d'italia no e se non mi rende mezzo posso sponsorizzare il suo canale ok dico anche però evito un po' di round mi amico ma chi è che in macchina ma dai da me qui c'è un player che bello che sei festa mangiata peccata testa ma dai penso che non mi aveva rianimato tieni cric mi servono colpi di aere e ok tieni dai 120 da me grazie mille ma perché non mi sparano in automatico le armi eh scusami per scusami per scusami per scrivete da sotto tanto quanto pingate io sto pingando che intendi pingate faccio pochi fps e scusa ma mi servono anche colpi piccoli aspetta su un botta pedali bravi bravi a me ne lo dovete di raga lina canta 150 raga io vado a pescare raga a me mi servono mediche tu lo capite oh no a me servono mediche se pari così se pari così sembri una carina non è bello a me servono mediche di marcello ho capito la sorella di marcello è tutto un fake cristiano è tutto un fake cristiano secondo te prosciutto la vinciamo o la perdiamo? la perdiamo e la vinciamo ma la perdiamo per non gufare ma allora anche tu eh ma allora anche tu ma vaffan ma allora ma allora anche tu ma vaffan c'è tutto sto loot criti fulli se vieni da me vengo da te che nomi cacadosso mangiati peci puzza il flopper me lo porto così tu e mi sono fatto non c'è oggi ah è bello ti vieni ah grazie è dolio è mio e dolio quanto bello è dolio senti piede sto pesce il peperino peperino non riusciti lasciami scendini che faccio la zona il pesce il peperino quindi il pepe 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 sì di non so chi vai o uno scudone medikit buono altrimenti chiede la spesa che poi serve a me meriti ma se a due centimetri di distanza serve a me meriti non ha quittato no prenditi il pollo fermate il pollo sì perché ha quittato ha quittato l'arabo meglio almeno non provare a bese non credo facendo mille dipinto non vedo se sto camminando come sto camminando no sono fermo sì con la gallina in mano così vabbè con la gallina in braccio stai camminando mo ma cos'ho come? ok ci sono ho preso io dopo il pump uno lo uso come di traietta il pompa spammona l'altro lo uso come... ma sei saurito no ok ora ci sono ti posso immarciare la gallina il più hanno la morfina io prendo la morfina io bisogno di spacco ci spacco ti ho detto ti ho detto che ti spacco abilare un uomo al piccolo oddio mi sa che mi fai morti tutti ah grazie a me c'è questa vediamo se ti assido ma potresti venire un attimo ce lo mangiamo vieni un attimo cosa c'è se lo mangiamo una cosa adesso mi fare materiali che non so correte io con il mio macchinaio con il problema corre con me oddio con che corri come corri ci sono dei player e da me è del minuto metti le ho fatto due venti martin garrix dov'è due venti io ho un'arma spammonitas un'arma etica ma non ho capito niente attenzione fai attenzione fai attenzione fai attenzione fai attenzione fai attenzione io ho fatto 31 31 una fratelli d'italia italia non è vero sto curando un gioccurio sono in egitto stai io sono morto niente Samu oddio hai perso ah vado di te Samuel anche mi sta invitando un altro Samuel tutti Samuel nooo ma ero in 4 team Samuel aspetta che siamo in partita vediamo se la vinciamo non abbandonare come tenuta vabbè vabbè abbandoniamo e andiamo con un altro Samuel ho capito ma a me mi hanno ucciso con il pompa spammone mitico non so se ho capito ho capito io sono la cristiana levo attento e Samuel facciamo il terzo di arena Polletto si è forte si chiama Samuel ok Samuel si è forte Samuel Samuel vabbè Polletto facciamo il terzo di arena continua a registrare mi raccomando ma sei registrando? sii ah ma hai detto che vabbè ciao ragazzi mi raccomando mi raccomando